SINGO Radonic in area con il tacco per Voivoda Che subentra bene Voivoda Fino in fondo Voivoda in mezzo E Radonic trova la prima fotografia In Serie A Team Loro due a guidare la ripartenza Radonic Voivoda Radonic 2-0 Toro Lazaro due tocchi e via Vlasic protegge il pallone Riesce a partire su Samaric Vlasic in area lato corto Il passaggio dentro All'altra parte Olaina Vantaggio Torino Olaina al 14esimo Il Toro recupera la palla in posizione Molto pericolosa Samaric ha cercato Miranchuk Con il sinistro Il vantaggio del Torino Appena arrivato Alexei Miranchuk Subito a segno per il vantaggio Granata Minuto 43 Si sblocca il risultato All'U-Power Stadium Monza 0 Torino 1 Miranchuk Parte Poi va dal centrale Per Vlasic Che si gira Va dove ci sono due compagni Raccoglierà Radonic dentro per Voivoda Zona cross Eccolo dentro Si gira Vlasic In un attimo Fa 2-0 Vlasic Raccoglierà Grazie a tutti.